Pazzesco E' assurdo E' assurdo Dove andiamo? Andiamo... Andiamo da magnuto Sbagliato Veramente sbagliato Comunque gli è andato pure male Perché quella pensavi quando non ci sono mai trovati il kit E poi ce l'aveva trovato in me Eh, io il kit gliel'ho pure sprecato Tra l'altro, quindi neanche il mio si sono presi Mi stavo curando, vero? No, ma che vuoi Dovevo inficcarmi da qualche parte Se mi inficcavo poi mi seguino lo stesso No, ma... Ho strutturato una macchina almeno Ho strutturato una macchina e potevo farci Le follie Si, esatto, non c'erano la macchina L'avevamo presa tutta Ma qua c'è il magneto? Si, c'è il magneto qua Ma diventi i guanti? Vabbè, ma tanto adesso i guanti si trovano facilmente Guarda, io li ho trovati I vostri guanti Ah no, no, mi prendevano guanti quelli Si, ti dai i guanti ma niente Eh, a me va tanto che non Non so che non li piglio Cioè nel senso Adesso trovano facilmente Ma non me li ha dati i guanti? Eh? Non me li ha dati Ah, li avrà presi Ah, ma uno solo ne puoi pigliare Tra l'altro, eh, pure Eh, si, solo uno Eh, per quello ma all'inizio Quelle queste la le faccio Eh, no, ecco No, non c'è nessuno Ah, no, aspetta È il primo colpo, cazzo Qua c'è uno scudo qua, eh Sì, ti ricorda quando è uscito Amica, venire qua Era impossibile Eh, ma anche io facevo così Perché era l'unico modo per Eh, ma quando escono subito le missioni Non conviene farle subito Perché vanno tutti a farle subito Non conviene aspettare un po' Eh, lo so, ma... Perché tutti le vogliono fare, giustamente Poi li fanno tutte Poi le fanno tutte Non hanno fatto tutto Ma quanti scudi ci sono però Si, forse magari la prima settimana Quando escono le queste qua Così Forse devo aspettare una settimana Vabbè, ma l'altro te l'ha fatto nello stesso giorno Lo so che lui l'ha fatto di sera Già non viva nessuno Infatti quando l'ho fatto io non c'era nessuno praticamente Vabbè sarà anche capitato questo, è vero? Deve anche avere fortuna con le lobby, eh Infatti questo è capitato però Diciamo che comunque è meglio di Farli subito sicuro comunque, eh Beh, io nella quarta partita che ho fatto Mi ricordo che sono riuscito a prenderli subito Fast Parlare con lui, prendere i guanti E volare via Eh si, proprio... Cioè ho ninjaato i guanti E sono scappato via E poi mi sono fatto questo con calma Eh si, alla fine All'altro che prendi i guanti da magneto Poi mi sono un po' facile Sì, diciamo comunque in generale Rispetto a quelle di Cora della scorsa season Queste di magneto erano... A parte due o tre queste erano abbastanza facili Sì, erano un po' più facili queste Ma io mi ricordo che quelle di Cora Erano veramente un po' concrette Ma in generale tutte le queste La scorsa season erano cancro E' che ce l'ha mai Io E comunque... Cioè mi sono stressato Più fai le... Semissioni d'estate Che... Ehm... Sì... Ehm... 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 Visto, comunque sto orpione E' l'oggetto qui Oh, passi Eh, non serve un cazzo Non serve Passi Cioè... Come passi? Vieni... Non ho visto niente Vieni... Vieni... Certo, ce l'ho passi C'erano due Vado mi buttam? Vado si vai Io vado ehm... Vadooooooooo Dove stai? Andiamo qua all'ipotamo diretta Non c'è nessuno raga, non ha preso nessuno il posto Aspetta, vediamo, effettivamente vediamo la cosa qua almeno Andiamo all'ipotamo, andiamo a uccidere ancora Ci sarà qualcuno, no? Non è detto però che non c'è nessuno lo stesso Non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno Non c'è nessuno, non c'è nessuno Eccolo Aspetta, scendiamo Ma che cazzo era qua? Oh, cosa sta facendo qui? Ma che cazzo? Ma questo era un bot secondo te? Era quasi verso il muro così, era fermo così Ma che cazzo? Ma vabbè Vabbè facciamoci, ci facciamo il boss qua C'è già No, dobbiamo attivarlo Ma per attivarlo bisogna stare con la scritta che c'hai o si attiva lo stesso? No, devi girare con la macchina e fare i cerchi Quindi deve Quindi non sta facendo niente adesso? Ah, ma i cerchi quelli la? C'è un cerchio lì, ma non l'avevo mai visto questa roba qua Dobbiamo prendere la macchina e passare con la macchina di cerchi Però il contatore sta andando lo stesso avanti Ma questa cosa l'ho fatto sempre Vabbè dove sta? Io non ho mai Ah, ma è per... Per diminuire il tempo, per spawnare Ma non è obbligatorio però, fanno Ok, ora l'attivo Usiamo la mitraglietta per uccidere, è quello che facciamo prima Ah, ma... No, stai a infilarmi Eccolo! Ma in due secondi guarda la cosa, guarda Mi sta massacrando Eeeh, sta per esplodere via! Eeeh, sta per esplodere via! C'è qualcuno però, eh C'è qualcuno però, eh C'è qualcuno però, eh Ah perché? Basta a sca... Basta a spaccare C'è qualcuno di qua, non fa gli scappi Eh, io sto apposciendo Se volete io vi lascio le le lezioni E che adesso non mi sale Pidiamo la macchina Ah, arrivo arrivo Eh, il problema è che questo è quella Ah, la palla è bene Allora, io se prendo... Stavo pensando se... Se prendere questi... Ai guanti... E poi che ti dà anche materiale? Comunque, eh Se dimenticate di togliere i materiali qua Quando ti dai i materiali qua, mi sai Eh... Ma l'altro marti? Ah? Ah? Ah, guarda quando sapete... Stavate sparando quello A me me l'ha dati Cioè... 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 Quei... Quei... Cosa che scendono qua quando... C'è... Eh... E' una palla di roba, eh Aspetta, ma che armai è quello? Cioè... Cioè... Ah no, è l'arma di merda Ma la palestra è... Ma la palestra è... Ma la palestra è... Piano... 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 Ok... Allora... Il problema è se manchia le poste sono fortissime, però... Se non la posso portare... Ma io... Eh... Vedi... Eh... Vedi... Eh... Tiè... Eh... Mi ha... 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 Tiè... Eh... Mi ha... Si... Si... Aspetta... C'è... L'arma blu... Ti avevo fatto scherzare... Quelli in tutto l'arco... Eh... Eh... Oh... Oh... Ok... Dove ha... Oh... 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 Non c'è nessuno... Che comunque... Stiamo a vedere anche un'altra lobby... Gente scarsa... Troppe botte... Comunque... Meno male... Che c***o... Io quando mi giocato sono... Non ho detto... Eh... Eh... Che venghi gente più forte... Oh... C'è... Underworld... Puttana pazzesca... Non lo so... Tutto strano sta cosa... Oh... Quindi i soldi ho beccato da più gente morte... Ovviamente sto beccando tutta gente... Scassissimo... Quanti sono... A volte dai che non lo colpisce a volte... Eh... 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 Dio... Eh... Dio... Ma... La ruota... Te l'hanno scassata... Te l'hanno scassata... Eh... Eh... Te l'hanno scassata... Ma... Avete... Quelle... Antiproietti... No... Ve l'ho trovata... Ve l'ho trovata... Ve l'ho fatto giustatela... Aspetta... Proviamo... Vabbè... Vabbè... Vai a giustatela... Ma... Vabbè... Vai a giustatela... Vabbè... Vabbè... Il cerchione... Bravo... Bravissimo... Ma... Non lo sapevo che lo faceva... Eh... Ma non lo sapevo... Eh... Allora... Te l'ho giustato... Ma... Cambia macchina... Facciamo prima... no, prendiamo questa qua, qua c'è un'altra macchina dove? ma anche qua c'è, vabbè prendiamone una ciascuna andiamo con 3, andiamo qua eh si, almeno spariamo in 3 intanto puoi fare switch con la spagna beh, è di 40 almeno che la macchina ah no, ma noi spariamo in 3 è meglio se ci vengono eh sto pigliando i potenziamenti un attimo no, non ho meno di più gli asti mi chiedo a queste macchine perché so che queste macchine piccole quali i boss li devono mettere anche nello shop più avanti ti chiedo quanto andranno a postare bella quella del boss vabbè, su il letto si ma non quella di me oh, si sparano qua io vado eh la donna l'hanno già fatto uscire però queste qua dei boss dovrebbero poi uscire nei boss successivamente la volevo capito si si? oh, è arrivato uno con i guanti, guarda mi sa che non era un bot ti ha ucciso tra l'altro eh, mi sparo un altro però verso fine siso, no è qua, attenti ah, l'ho visto, l'ho visto, la zippa, la zippa sono in 2 lì dove è andato con la zippa adesso eh eh, ma io ho... c'è il cannone mi devo andare devo fare il giro no, 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 una macchinina sto andando a fare scassare una macchinina no, io sto facendo il giro e sto facendo guardate dietro io sto andando eh se mi beccano in 2... no sono tornati indietro lo fanno apposto io vado in lì lo fanno dalla trapa lo fanno apposto ah si? beccatevi questa Ah, mi sono incastrato la macchina sull'albero Dai, non c'è dove, che sfiga Non ci credo Però l'ho colpito una volta, eh Mi hanno preso la scheda i coglioni, tra l'altro Cacchio Però l'ho perso, non so dove cazzo sono andato Ah, sono davanti Uno è qua Eh, ti trovo di là Non lo vedo più Eh, sono uno Sono spostino, sbastato, sono sposti qua Non è che dentro ci spugge il coglione Guardi, 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 come sono camminando Sono qui, là Sto qua dentro Eccolo E sono fuori rianimando, guardi Non erano loro che hanno rianimato No, c'è, hanno a parte che stanno rianimando L'hanno rianimato una altra parte Eh, lo potevo colpire, quello, qua Eh, qua, eh Hai visto che camperoi? Stavo tagliando passi Ah, l'ho colpito Era il colpo rimbalzato giusto Eh, un colpo gliel'ho dato Vabbè Scusate che riparo la macchina un attimo Perché mi sa che Chi è che mi ha colpito così, però Dai, è incontrollabile sta macchina di merda Qua c'è un coglione Eh, dove stavo sparando io? Che poi sei arrivato tu Cosa sono andati che si sta di cazzo Eh, sono scosto Sono fatti via, mi sa, eh Oh, merda Guardati Oh, merda Mi sa che mi stanno Ma c'hanno due macchine potenti Questi coglioni, tra l'altro E sparagli, cazzo Stanno separando quella macchina Ah, gli ho fatto esplodere tutto Gli ho fatto capottare Ah, spara, cannone di merda Eh, io non so niente Via, 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 non andai da solo Ecco, ecco, va, va, va Lo sto colpendo, eh Vai, vai, vai È morto? Ah, l'ho fattuto È morto il coglione C'è un altro Merda L'ho scassato, eh È lì, è lì, è lì Oh, ma che cazzo è stato? Scusate Il medaglione, il medaglione Pieghi, ragazzo Oh, raga, prendiamo Prendiamo la macchina in posta Oh, che ti sto parlando, raga È quel coglione, t'ho detto E dov'è? Ah, posso, l'ho visti Sono in due Stai prendendo la scheda Ah, l'ho battuto, l'ho battuto È rimasto l'ultimo No, l'altra macchina è in posta No, aiutatemi Madonna, meno male che è morto Mi stava per uccidere sto Madonna, vado a tutelarmi i viti Che avevano sti bastardi Dai, non c'ho parole Perché il medaglione non lo fa via? No, prendilo tu E prendo questo Ok, perfetto Questo qua, prendo No, ma questi qua è uno Avevano tutte armi d'oro mitiche Questi qua, oh Pure l'assalto mitico No, c'è altre No, c'è delle macchine, cazzo No, l'ho passato Quella macchina, cazzo Io mi devo curare un attimo, eh Ecco Mi hanno visto Mi hanno visto Vai via via, scappa No, no Vai, gente Che t'ho salvato Via la cosa, vai in fega Io t'ho salvato, dai Perché hanno mirato a me, cazzo Che ho avuto con la mano Che stanno Ecco lì Stanno arrivando Ma chi è? Eh no, eh Quello dietro Oh, Dio, scusa Ah, non erano due macchine, scusa Oh, mio Dio Ma dove stanno? Ah, mia Mad Max Sto capendo un cazzo, raga Porca puttana C'è troppo casino Ah, l'ho colpito, l'ho colpita No, no, no Aspetta, aspetta No, no Voglio colpirli con il cecchino io Ah, là Sono lì, eh, comunque Comunque c'è uno a terra Eh, hanno due macchine, quei coglioni Un'altra macchina ancora Ah, ma c'è uno qua, raga No, sono in due guesti, eh Ah, c'è, no Io l'ho quasi scassata la macchina, quello là Ah, quelli sono bot All'interno sono spada bot Sto capendo un cazzo Dai, cazzo L'ho ucciso, l'ho ucciso i bot, tra l'altro Let's go Arriva Oh, mio Dio, ma io ce l'ho avuto che sta per distruggersi No, ma che finita Se l'auto muore Ma che è che mi sta sparando? Eh, quelli là E io ho quasi scassata Ah, gliel'ho fatta esplodere la macchina, eh Non ho preso l'altra macchina No, adesso è uscito L'ho preso un'altra macchina, il coglione Dai, non ci voglio credo Ah, gliel'ho fatta esplodere Ah, è morta pure questa Profittano, è lì, è lì, il coglione È bianco, è bianco No, mi stai capace la macchina È morta, è morta No, raga, mi stai capace Che è? Mi stai capace la macchina Ma ma quello la sopra che mi continua a sparare Ma Guarda che il bastardo, maledetto Ma dov'è? È lì sopra, cazzo C'è una cosa vercolosa, ma Che cazzo è? No, ma la sopra è qua, cazzo No, da dietro mi hanno colpito Ma vaffanculo Io non ho più scudi Devo trovare da qualche parte No, ma c'è pure gente Ecco, dai, non c'ho io, credo Sto spando da dietro Scudi, merda, non c'è adesso una parte A salvarmi l'auto Non mi trovo a safe Signore, qua c'è qualche scudo No, eh, sì, va buo Ho trovato lo scudo, che culo Senti, raga, perché Mi sto curando, eh No, ma sono andato con il safe, cazzo Eh, ma per curarmi la maniera No, io dico Sono andato con il safe No, ho sprecato il kit Comun coglione, ma Che siete? Sono distantissimo io Il mio qualcuno mi ha sparato da dietro Come è di qua, eh Eccoli Sono in tra... Minchia, l'ho fatto in ticchia Dove sono? Qua, qua, qua Ah, quello ha battuto, quello, eh Ma non, l'ha in aria Oh È morto È morto È morto la macchina Guarda, quel bastardo Attenti qua Dai No, non fate entrare dentro Perché Ah, quello lì l'ho colpito Quello là, eh A uno di quelli Quello della skin nera, tipo Minchia Eh, niente Sono andato con la safe E sono mezzo morto Ah, vai, vai Non c'è una cura qua Da qualche parte Ma non, l'ho colpito No, da dietro No, qualcuno da dietro No, anche da dietro no, eh Non so, uno mi è arrivato un colpo Da dietro No, no, c'è qualcuno L'ha nascosto da qualche parte C'è qualcuno Se si rogge il suo No, mi sta pushando Oh, vedo passi Vedo passi C'è uno vicino a me Eccolo Non muore mai sto coglione No, ti sei fatto entrare dentro E ora? Eh, ma se non Non è scendola Possiamo colpirlo A quello, eh Mi sa Stai accompagnato a noi No, raga Poi sei un'automitica No Eccolo Ecco l'Eminem Di merda Eh, non la piglia mai Che magneto c'è magari Sopra l'albero Sopra l'albero Bravo Guarda che male Da dietro Mi stava appigliando Non male che era scemo Che ne puola qua Che ne puola qua Grazie a tutti.